Ve lo avevo detto, non c'era alcun video previsto in mezzo, perché in realtà io avrei dovuto parlare direttamente del post-gara di Roma-Atalanta dopo le 18, cioè le 18 inizia la partita, quindi fine gara avrei fatto il video. Beh, in realtà, credo che la notizia che ci è stata data dalla conferenza stampa di Max Allegri meriti un approfondimento e un discorso generale. Già nel video in precedenza dovevo poi parlarvi, ragazzi, in realtà della situazione rinnovo di Dybala, eccetera, che a quanto pare Antunne a Torino e la settimana prossima parlerà poi con la dirigenza. Allora, ragazzi, Dybala ha un risentimento all'altro flessore, non quello infortunato dove si stava riprendendo, all'altro, per cui domani non ci sarà. Io dico una cosa, io ero a favore del suo rinnovo e sono a favore a certe cifre, però non incazzatevi con la società, se la società, vista e considerata, insomma, la forma fisica, l'integrità fisica di Dybala, vada a giocare di basso. Non può pagare uno come top player della squadra se non assicura un certo numero di presenze, per cui è normale che la forbice tra variabile e netto cambi, ovvero il netto sicuramente deve ridursi la quota fissa a quello che gli spetta, eccetera. Poi, se vogliamo aggiungere la parte variabile, nella parte variabile possiamo metterci una forbice ampia, così il giocatore è incentivato a giocare, fare gol, fare assist, eccetera. Qualora non dovesse accettare la proposta a rivederci e grazie. Cioè, io ragazzi la penso veramente così. Adesso il risentimento iniziamo a nutrirlo noi tifosi nei suoi confronti, perché non è possibile una situazione di questo genere. È paragonabile ad Aaron Ramsey. Cioè, questo qua, Ramsey sta per tornare, doveva arrivare il gran giorno del ritorno di Ramsey al calcio giocato. Notizia. No, Ramsey si è fatto male, c'è il gomito che fa contatto col piede, ha le papille gustativamente rotte, quindi è infortunato. Ma diamine, ragazzi, quando è così fai anche spallucce, fai quel sorrisetto amare e dici, vabbè, ma non è possibile. Ma non è neanche questione degli allenatori in questo caso. Cioè, Di Bala ieri viene intervistato, l'altro ieri, ah, sono pronto, voglio vincere lo scudetto, mi sento bene, torno ad allenarsi. Che caspita. Cioè, sembra il classico tonno che lo spezzi col gressino. È uguale. È uguale, ragazzi. Io capisco anche l'insofferenza di tanti. Ora, a me non piacciono gli estremismi e le polarizzazioni di pensiero sul dibalismo e antidibalismo. Sono cose che mi stanno veramente sulle balle, ok? Chi dice sì a Paolo, che poi magari per Paolo lascia stare la coerenza di pensiero anche sugli altri tesserati, ma dice, ah, Di Bala tutto è concesso, ecco. D'altro canto, c'è gente che contro Di Bala a prescindere. Bisogna essere sicuramente un po' più equilibrato. Di Bala, il talento di Di Bala non si discute. Ha un sinistro meraviglioso, ha la capacità di sbloccare delle partite di merda perché ha la tecnica sopraffina. Nessuno qua lo mette in dubbio. Nessuno può mettere in dubbio le qualità di Di Bala perché mi incazzo io a quel punto. Però, d'altro canto, non si può neanche sputtare contro chi fa delle riflessioni legate alla sua integrità fisica che negli ultimi anni manca, ha perso 260 giorni di agonismo sto ragazzo negli ultimi due anni. E, raga, non sono pochi. Cioè, volete capire che non sono pochi. Per cui la riflessione legata allo stipendio che la Juve deve pagare tanto, un giocatore che ha mezzo servizio, perché siamo quasi a mezzo servizio, eh, o poco più. E beh, ragazzi, la riflessione io ce la farei, fossi nei panni della società. Cioè, questa è una di quelle decisioni che devi prendere con un bilancino, con tanti pesi uguali, metti i pro e i contro della situazione e poi, in base a come si sbilancia questa bilancia qua, con i due pesi, vedi, se, insomma, ci sono più pro che contro, cerchi di rinnovarlo arrivando fino a una certa soia di soldi da pagare. Perché poi ricordiamo che Di Bala non va a usufruire del decreto crescita, per cui se Di Bala prende 10 la Juve paga 20 quasi, eh, quindi mica roba da poco. Capita bene che poi anche la durata del contratto. Cioè, se prima doveva essere 5 e il giocatore garantiva una certa idoneità al finire le stagioni sempre integra e certa, a quel punto dicevi, vabbè, sti cazzi, faccio 5 anni. Tanto questo ragazzo non mi dà problemi, un po' come per Bonucci anni fa. Bonucci anni fa, ragazzi, era sempre integro, gli hanno fatto un rinnovo lunghissimo, forse anche troppo già all'epoca. Ma Bonucci integro. Di Bala non integro, per me, legarsi 5 anni, quell'ingaggio là è una follia totale. Io sono dell'idea che a quel punto, 3 anni, poi metti parte fissa, bassa, un po' più bassa, tipo 6 milioni e mezzo, 7 milioni, e gli dai una parte variabile alta, in base alle presenze, in base ai numeri che fa. Credo che sia il miglior modo. Oltre quella soglia non mi spingerei francamente. Quindi, questo è il mio pensiero sul rinnovo di Paolo Di Bala. Staremo a vedere. Detto qua, ragazzi, sotto, non scatenate guerre stupidi, idiote, basati sul pregiudizio. A me piace, a me non piace, mi sta sul culo, mi sta troppo simpatico il mio idolo, non è il mio idolo, è il mio capitano, non è il mio capitano, perché è una discussione sterile. Cercate di entrare tanto nei motivi, mettetevi nei panni. Cioè, voi siete a capo di un'azienda dove uno dei vostri migliori dipendenti, dal punto di vista delle caratteristiche, per metà anno non lavora, per un motivo o l'altro. E dovete decidere se rinnovare il contratto e pagarlo come un top. Cioè, immedesimatevi un pochettino come se stesse cacciando i soldi voi, perché parlare col portafoglio degli altri è sempre molto molto facile. Lo si fa in base alla simpatia o in base all'antipatia. Però, ragazzi, questo è un aspetto che sicuramente, cioè, se vi mettete nei panni di chi deve cacciare l'euro, magari riuscite a fare un'analisi un pelo più oggettiva, ecco, questo vi dico. Detto questo, ragazzi, io sto nel librido, faccio il cerchio bottista di bala. Cercate di rinnovarlo a prezzi non folli per tre anni, di più, secondo me, è follia. Credo che la soluzione sia quella là. Qualora lui non dovesse accettare perché ha delle offerte migliori, grazie Paolo, arrivederci e grazie. Cosa volete che vi dica? Cioè, più di così, non è che posso andare a spendere una follia di denaro per un sacco di anni. Perché no, eh? No, 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 no. A quel punto vai sul mercato, hai altre opzioni tattiche, ti risolvi in altri problemi, però senza veramente impelagarti in situazioni strane con Dybala. Cioè, Dybala è un gran giocatore, però potrebbe essere anche una bega sul lungo medio periodo. Per cui, sono dell'idea che, rinnovato a certe cifre, bene, per tre anni, benissimo, poi si vedrà. Ma gli orari si possono opzionare degli anni, si possono fare delle cose interessanti, ecco. Questo è il ragionamento che fa colpo gombo. La società, sicuramente, sta facendo i suoi ragionamenti. Fatto sta che questa situazione non la inputò, né a Dybala, non voglio pensare alla mala fede, non voglio veramente pensare alla mala fede. Anche se capisco che qualcuno a sto punto inizi veramente a ragionare ci su. Un pochettino. Ah, ma Dybala non è che sta temporeggiando, non vuole giocare, sta cercando altre situazioni. Non lo so. O finché non si sblocca il contratto, lui non vuole, insomma, ci sta. Credo che sia nella natura umana e quando siete sempre in bilico e precari, non è che date il massimo dell'impegno se non siete fortemente motivati o state valutando altre situazioni. C'è una situazione mentale un pelo complicata, l'ha detta Allegri. Certi infortuni dipendono anche tanto dalla psicologia e ha ragione. E ha ragione. Questo è tutto. Ditemi la vostra opinione sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine Forza Juve, ci vediamo per il posto Roma Atalanta. Un abbraccio a voi.